DJ Bandana per presentarci il Tale e Quale Show. Che cos'è il Tale e Quale Show? Il Tale e Quale Show è formato da tante persone comuni che cantano in modo lodebole, trasformate con l'aiuto di parrucchieri e truccatori nei cantanti famosi, nei nostri beniamini. Ah, quindi se cantano baglioni sono truccate anche da baglioni. Sono trasformati e prendono le sembianze in qualche modo di baglioni. Che poi viene proiettato pure magari su... Certo, c'è il palco, da un lato viene proiettato l'immagine dell'immagine del cantante famoso e a fianco si vede proprio la riproduzione. Molti di loro anche con le voci somigliano tanto. È proprio un spettacolo esilerante. È uno spettacolo, non è una gara, stavamo precisando poc'anzi dove ci si aiuta. Non competitiva. Seconda edizione, la scorsa edizione è stata davvero bella, tutti felici, tutti contenti. Gli appuntamenti per il nostro ascoltatore. Primo aprile, venerdì primo aprile, dalle ore 22.30 presso l'Elefante Rosa a Vascomarina. Sì. Dalle ore 22.30, l'ho già detto, lo ripeto. Per iscriversi? Sono già chiuse le iscrizioni, ho già chiuso il caso, stiamo già facendo prove. Si può venire solo a vedere. Per vedere. È una bella serata, si spazia da Céline Dion a Emma Marrone, a Emma D'A, ce ne sono tantissimi. Io sono Vasco Rossi. Ah, tu sei Vasco Rossi. Bravo, se vuoi che qui... Eh, non si. Sai un po' la voce. È cavernoso. Bravo. E il secondo appuntamento invece... C'è un appuntamento, movita della voce. Movita della noce, non c'è senza tempo. Domenica 10 a fine. Domenica 10 a fine. Dalle ore 22.30 ci sono. Va bene. Tutto qui. Tutto qui, è detto poco. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti